il paese è storto, rovesciato, il paese incapace di trattenere la sua gente e si giura, si promette, il giorno che uscirò da qui non pronuncerò mai più il tuo nome Questi signori, queste sono le bestie che infestano le nostre campagne In Francia si sta meglio, no? Subito dovevamo partire, io lo stavo aspettando, passare noi quello che gli immigrati hanno provato Questo miserabile italiano dall'intelligenza limitata dall'istruzione pressoché nulla è un malvagio Messias dame, c'è lui, c'è un assassino, c'è lui! Che doveva succedere? Un gioco, dopo un giorno ci vanno una bella e tutto finito Mamma, il t'aggia scanna di mazzone! La mia storia, la stessa storia, tuoi! Les enfants, quand l'institutore s'en allait, craschaient dans notre soupe Nous sommes tous, les enfants ont d'immigrés! Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi?